Il 2010 si chiude all'insegna dell'ottimismo per l'agricoltura pugliese. A sostenerlo è l'assessore regionale Dario Stefano che nella consueta conferenza stampa di fine anno ha sottolineato gli ultimi dati positivi. All'incremento dell'export dei vini pugliesi e all'erogazione di tutte le risorse comunitarie disponibili, ben 243 milioni di euro, si aggiunge un aumento degli iscritti alla facoltà di Agraria, un segnale del rinnovato interesse dei giovani al settore dell'agricoltura. Gli iscritti alla facoltà di Agraria che registrano un boom quest'anno rappresentano un'inversione di tendenza, un'attenzione dei giovani rispetto al comparto agricolo e una ritrovata prospettiva dei giovani che vedono nel comparto agricolo la possibilità di costruire un proprio progetto di vita. Il prossimo anno sarà più impegnativo di quello appena passato perché in questo difficile contesto finanziario si dovranno attivare gli strumenti di intervento reale per l'agricoltura previsti dal programma di sviluppo rurale. A ciò va aggiunta la sfida sul tema della tracciabilità dei prodotti pugliesi, una priorità per l'assessore Stefano. Vogliamo portare a compimento e quindi ad operatività questo nostro progetto del marchio prodotti di Puglia. Per noi il 2011 sarà l'anno della tracciabilità della filiera pugliese come strumento non solo per difenderci dalle agropiraterie, dalla concorrenza sleale ma soprattutto per valorizzare questa nostra storia produttiva che è brand ormai affermato in tutto il mondo. La Puglia è sinonimo di qualità e di sicurezza alimentare e noi di questo ne dobbiamo essere non solo orgogliosi ma anche capaci di creare una prospettiva di sviluppo importante.